buongiorno a tutti oggi volevo farvi vedere come portare un punto di corrente in campagna lontano dalla presa elettrica ovvio se avete le prolunghe avete risolto il problema ma se non ci arrivate davvero con pochi soldi o con poca roba di recupero riuscite ad avere un punto luce a 220 io qui ho una vecchia batteria che avevo caricato precedentemente un pannellino solare di carica e un inverter roba cinese da 500 watt ma se arriva a 200 e tanto ma per le mie esigenze più che sufficiente e poi in questo caso un petto d'acquario 220 15 watt 600 litri al minuto io devo svuotare questo cassone d'acqua portare sui 1000 litri da un'altra parte qui non arrivavo con la corrente veramente con poca spesa una ventina di euro questo pannellino 15 euro 10 15 euro questo vale quel che vale poi quando si rompe lo butti via è una batteria di recupero con 30 40 euro avete fatto il punto di corrente lì dove vi serve collegamenti sono estremamente semplici pannellino ricarica la batteria batteria alimenta l'inverter l'inverter da corrente alla pompa 220 come vedete non c'è nulla di difficile è un'idea magari può venire utile per alcune occasioni vi saluto e vi auguro buona giornata